ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo di christopher robin la drammatica storia dietro l'amico di winnie pooh in un angolo della new york public library all'interno della children's room in mezzo a libri di favole musica 7 e dvd per bambini dal 1987 esiste un piedistallo color lime su cui sono esposti dei giocattoli che hanno tutta l'aria di aver fatto parecchia strada nella loro vita di pezza imbottita un asinello ingobbito una mamma canguro che ha perso il suo cucciolo un maialino troppo piccolo una tigre dal pelo sbiadito e arruffato e infine un orsacchiotto la cui pellice è stata lavata più volte e le cui orecchie e zampe sono state ricucite in più occasioni il nome dell'orsacchiotto era winnie the pooh ed era il migliore amico di un bambino chiamato christopher robin milne un bambino che crescendo finì per odiare il suo più caro compagno di giochi non sempre la nascita di un bambino rappresenta un avvenimento gioioso in una famiglia specialmente se in questa famiglia esistono dei problemi non importa quanto siano nascosti dietro una facciata di perfezione e felicità alan alexander milne e dorothy o dafni come veniva chiamata in famiglia de selincourt sembravano all'apparenza una coppia perfetta lei era una donna molto bella ed elegante nata e cresciuta in un ambiente agiato e lui un giovane tenente dell'esercito inglese che si era distinto per meriti militari e letterari durante la prima guerra mondiale non solo alan milne era anche un autore affermato aveva infatti scritto numerose pisteatrali e articoli e libri in cui denunciava gli orrori della guerra quando convolarono a nozze nel 1913 sembrò il finale perfetto di una fiaba d'amore tuttavia la realtà era ben diversa sebbene il matrimonio fosse nato sulla base di un sentimento solido i due sposi convivevano con dei demoni personali dafni si era deliberatamente allontanata dai genitori e dei tre fratelli a causa di dissapori mai sanati e aveva deciso di troncare in maniera permanente ogni rapporto con la famiglia d'origine alan chiamato al fronte allo scoppio della prima guerra mondiale non riuscì mai del tutto a riprendersi dalle ferite psicologiche che il conflitto gli aveva lasciato spesso malato venne continuamente trasferito da un reggimento all'altro fu ferito in guerra e al ritorno a casa venne a lungo perseguitato da incubi e ricordi intrusivi di ciò che aveva vissuto al fronte avendo forse sviluppato un disturbo post-traumatico da stress nonostante ciò i mille riuscirono a mantenere la facciata di una coppia felice e soddisfatta della loro vita matrimoniale che sembrò aver raggiunto il suo coronamento con la nascita di un bambino christopher robin christopher robin nacque dopo ben sette anni delle nozze frutto di una gravidanza che impiegò diverso tempo per arrivare e che probabilmente si rivelò travagliata sua madre daphne aveva sperato di poter avere una bambina tanto che i genitori avevano già scelto il nome per la nascitura rosemary quando venne la luce a un maschietto fu battezzato come christopher robin unendo i due nomi scelti da ciascuno dei genitori circa 15 anni prima la jk farnell aveva avviato la produzione e il commercio del primo prototipo di orsacchiotto di pezza che la gran bretagna avesse mai visto milde e sua moglie decisero di acquistarne uno per il primo compleanno del figlio e così christopher robin trovò in una scatola volta da carta da regalo quello che sarebbe diventato il suo migliore amico un orsacchiotto imbottito dalla pelliccia color sabbia il muso appuntito le zampe piatte e gli occhi di vetro dipinto christopher robin e il suo nuovo amico divennero presto inseparabili il bambino decise di chiamare l'orsacchiotto edward ma dopo una visita allo zoo di londra gli cambiò il nome in winnie in onore di winnipeg una femmina di orso bruno canadese ospite dello zoo quando christopher robin aveva cinque anni mil forse per sfuggire alla caoticità di londra e trovare un po di tranquillità per poter scrivere comprò la tenuta di coach for farm al confine con il galles dove la famiglia prese l'abitudine di trascorrere i fine settimana e le vacanze la tenuta si affaccia sulla foresta di ashdown una vasta distesa da erica che ben presto iniziò a stuzzicare la fantasia di milne christopher robin strinse amicizia con ann darlington una bambina figlia di amici dei milne i quali arrivarono a fantasticare di un possibile futuro matrimonio fra i due ma intanto i due bambini erano felici di poter giocare insieme christopher robin con il suo orsacchiotto e ann con la sua scimmietta di pezza jumbo fu proprio vedendoli giocare e grazie all'ispirazione dei luoghi che milne creò le avventure di un orsetto di nome winnie the pooh che in ogni storia si cacciava nei guai cercava il miele scappava dagli felanti e dalle noddole ed esplorava il bosco dei cento acri basato sulla foresta di ashdown in compagnia dei suoi amici il maialino pimpi l'asinello io e tanti altri tutti ispirati dai giocattoli di pezza di christopher robin il migliore amico di winnie the pooh era christopher robin stesso il quale compariva nelle storie sia come protagonista insieme all'orsacchiotto sia come figlio di milne al quale lo scrittore raccontava un'avventura di winnie the pooh come favola della buona notte il successo dei libri di winnie the pooh fu immediato tanto che dopo il primo volume in molti richiesero a milne un proseguimento delle storie christopher robin divenne famoso in tutto il mondo come il migliore amico dell'orsacchiotto goloso di miele e i lettori dei libri di suo padre iniziarono a fare a gara per conoscerlo sembra una storia dolce e a lieto fine ma come spesso accade dietro una superficie scintillante si nasconde un lato più oscuro fra i giocattoli esposti alla new york public library manca ro il cucciolo di canguro figlio di canga che christopher robin smarrì durante l'infanzia una coincidenza tristemente somigliante al destino che lui stesso ebbe nel rapporto con sua madre e suo padre la notorietà e il denaro che giunsero in casa mil non furono sufficienti a sanare le ferite preesistenti e che invece non fecero altro che sanguinare ancora di più proprio a causa delle avventure di winnie de pooh la nascita di christopher robin era stata una delusione per dei genitori che avevano sperato in una femmina in particolar modo per la madre la quale non si sentirà mai molto legata al figlio fino ai suoi otto anni i genitori scelsero di tenere i capelli di christopher robin più lunghi rispetto alla moda dell'epoca vestendolo in maniera che ricordasse lontanamente un abbigliamento femminile christopher robin sentirà sempre di essere stato messo in una posizione di secondo piano da suo padre e da sua madre i quali gli preferivano l'amichetta en una figlia mai avuta quella rosemary che lui non era stato il matrimonio fra i coniugi mil si frantumò dopo poco tempo dal successo di winnie de pooh pur rimanendo sempre legalmente sposati alan alexander e daphne iniziarono a condurre vite differenti il successo dei libri di milne portò la famiglia a trascorrere sempre più tempo nella tenuta di coachford farm lontana dai fasti e dalla vita mondana di londra che la madre di christopher robin aveva sempre amato daphne si risentì molto con il marito per il trasferimento e iniziò a dividere il suo tempo fra la capitale inglese e gli stati uniti con il suo amante mil intrapese a sua volta una relazione extraconiugale con una giovane attrice christopher robin non venne risparmiato dall'uragano di tensione e risentimento che i libri di winnie de pooh portarono nella sua famiglia poco dopo la sua nascita come era ad uso nelle famiglie dell'alta borghesia i genitori assunsero una bambinaia olive brockwell che si occupò interamente di christopher robin vivendo con lui nella nursery e sostituendo in tutto e per tutto i genitori del bambino i quali lo videro raramente durante i suoi primi anni il riavvicinamento apparente fra padre e figlio fu in realtà frutto di una necessità pubblicitaria che entrambi finirono con il disprezzare christopher robin sebbene inizialmente fosse felice di essere il protagonista delle avventure di winnie de pooh crescendo iniziò a essere infastidito dalla curiosità dei lettori di libri di suo padre i quali pretendevano che lui fosse sempre disponibile gentile solare e allegro nonostante non avesse gradito che la sua infanzia divenisse di dominio pubblico christopher robin cercò disperatamente una vicinanza con suo padre il quale però era stato stravolto a sua volta da un successo che non avrebbe voluto mil consegnò al suo editore il libro la strada di pooh nel 1928 dichiarando che quella sarebbe stata l'ultima avventura di winnie de pooh che avrebbe scritto era infatti irritato che pubblico e critica l'avessero etichettato come un autore per bambini quando la sua aspirazione era sempre stata diventare noto come commentatore politico e scrittore teatrale mill continuò a lavorare a opere da lui ritenute più serie e impegnate ma tutte le sue produzioni successive vennero sempre offuscate dalla fama di winnie de pooh e di suo figlio questo non fece altro che amareggiare mil sempre di più tanto da spingerlo a provare invidia nei confronti di christopher robin scriverà infatti a un amico della gelosia che provava quando si rendeva conto che ai vari eventi e presentazioni dei suoi libri il pubblico non volesse incontrare lui bensì suo figlio forse fu per questo che mil prese la decisione di mandare christopher robin lontano da casa per proseguire i suoi studi a dieci anni christopher robin venne separato dall'amata tata olive e inviato a studiare in un collegio vicino a gilford e in seguito in un altro collegio nel buckinghamshire in entrambe le scuole venne continuamente e pesantemente bullizzato dai compagni di classe bambini ex lettori di winnie de pooh che l'avevano riconosciuto come il christopher robin delle avventure dell'orsetto christopher robin si arruolò durante la seconda guerra mondiale e si laureò in matematica nel corso degli anni i rapporti con suo padre migliorarono sebbene i due si vedessero di rado nel frattempo i miln ancora speravano che christopher robin sposasse ann darlington come le famiglie avevano stabilito quando erano bambini ma pur restando in buoni rapporti con ann pochi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale christopher robin sconvolse la famiglia annunciando il suo fidanzamento con leslie de selincourt leslie era figlia di geoffrey de selincourt uno dei fratelli di sua madre e dunque sua prima cugina il fidanzamento scioccò profondamente daphne che si dichiarò ripilata sia per la parentela fra i due sposi sia per il rifiuto di christopher robin di sposare henne ma anche per gli screzi che avevano spinto la donna ad allontanarsi dal fratello daphne minacciò suo figlio di troncare completamente i rapporti con lui se avesse perseverato nel suo proposito di sposare sua cugina christopher robin convolò comunque a nozze con leslie e l'ultima occasione in cui vide daphne fu il funerale di suo padre alan alexander miln morì a seguito di un ictus a 74 anni senza aver mai veramente recuperato il rapporto con suo figlio sua moglie gli sopravviverà di ben 15 anni durante i quali manterrà fede alla sua promessa e non vorrà mai rivedere christopher robin quando un amico di quest'ultimo propose un ultimo incontro la donna ormai in punto di morte opporrà un fermo rifiuto christopher robin aprì un negozio di libri a londra che gestirà fino alla morte con la moglie leslie insieme si presero cura dell'unica figlia claire nata con una paralisi celebrale che l'avrebbe per sempre costretta su una sedia a rotelle l'orsacchiotto winnie de pooh e gli altri amici del bosco di cento acri rimasero per decenni chiusi in un baule nella tenuta di corchford farm senza che nessuno li reclamasse fino a che un giorno christopher robin li ritrovò e decise di regalarli all'editore di suo padre il quale a sua volta li donò alla new york public library christopher robin decise di utilizzare tutto il denaro che ricavò dalle opere di winnie de pooh per donarlo a chi come sua figlia claire soffriva di disabilità grazie a tutti Grazie per la visione!